Beng si è laureato presso la scuola teatrale precedente Dansk Schenekun School nel 1996 e ha iniziato la sua carriera da attore recitando principalmente in spettacoli teatrali e televisivi danesi. Tra le serie televisive in cui ha recitato vi sono Taxa, Anna Peel, 2900 Happiness, The Bridge, la serie originale e Siva Landmarks. A partire dal 2002 si è esibito in un monologo basato sul romanzo La fabbrica del male dello scrittore svedese Jean-Louis Lu, portandolo in scena in più di 300 occasioni, tra cui una versione in lingua inglese presso l'ST. James Theatre di Londra nel 2015 Nel 2017 ha interpretato il protagonista Christian, curatore di un museo di arte moderna, nel film The Square di Ruben Ostlung, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2017. Oltre alla sua carriera da attore, Bang realizza musica sotto lo pseudonimo di This Is Not America. Nel 2010 Bang ha sposato la truccatrice Liz Louise Jensen. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane.